Sindaco, cosa c'è di vero nelle voci secondo cui il Comune, l'amministrazione, sta pensando di affidare certi servizi sociali in carico appunto al Comune, all'Ulss, in particolare all'Ulss 16? Il progetto direi che è molto più ampio, è in un progetto anche regionale, è chiaro e noto a tutti che la scelta della Regione che è stata quella di nominare un direttore generale dell'Ulss Padovana, l'ex direttore dell'azienda Dario, il dottor Dario, ma anche commissario delle altre due unità sanitarie locali che sono quella dell'Alta Padovana e quella della Bassa Padovana. E quindi le tre Ulss che gestiscono tutti quanti i servizi nella provincia di Padova. All'interno del nostro territorio ci sono servizi che vengono per esempio nell'Alta Padovana delegati interamente all'unità sanitaria locale con degli ottimi risultati, cose che non è per l'area padovana del Comune di Padova e cose che non è per altre zone del territorio. E quindi sono ben 27 comuni che delegano i servizi sociali in toto, quindi con delle economie di scala di gestione direi molto buone perché ci sono alcuni servizi che vengono erogati che per esempio non ci sono nella città di Padova. E quindi da qua è nata anche un'opportunità direi che è quella. Quando si arriverà all'unificazione di un'unica unità sanitaria locale di tipo provinciale, quindi con un'unica direzione, non ha senso che nel territorio ci siano servizi sociali di serie A, di serie B o comunque gestiti da Comuni o gestiti dalla unità sanitaria locale. Quindi l'idea e la proposta, che peraltro è sposata da moltissimi anche altri amministratori locali e altri sinaci, è quella che ci sia un'effettiva delega. Cioè gli stessi servizi, se no anzi molti di più, vengono fatti dall'unità sanitaria locale e non vengono più fatti dal Comune di Padova. Magari con un passaggio anche di personale, visto le difficoltà che ha il Comune nell'assunzione e di rapportarsi con gli assistiti sociali. Io dico che questa è una vera integrazione sanitaria, non quella che enti diversi facciano magari le stesse cose. Questo è un errore. Invece facendo così si possono veramente avere delle economie di scala importanti anche per la città di Padova con nuovi servizi per gli utenti.